Il Twink è fortissimo La madonna di Dio Dunque in a nutshell il discorso Oh ciao Fede Number one Ma che cazzo Molto apprezzato Onestamente, inaspettato Quanto apprezzato Cosa ti posso dedicare Per questa cosa Vediamo Se mi viene qualcosa di decente Da poterti dedicare Ora quello che succede È che io sono un druido Feral No, sono un feral druid E questa cosa mi fa schifo Perciò ne approfitto Grazie a questa bellissima Flight form E grazie a questa bellissima donazione Per Dedicarti Lo specificamento del gatto Perciò 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 Grazie a tutti.